Siamo per partire, quella è Paoli, quella è Cree, questa è la vice, la Cree è nuova arrivata e noi siamo sempre le solide Qua, come potete vedere, in questo bellissimo abitaznella, l'acqua che elimina l'acqua, ecco, l'acqua che usa l'acqua tra giro Gua, 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 gua C'è un bimbo, come per me sembra più rara, un regno più regci più grande I hope you can find Just cause they wanna have fun Oh girls just don't wanna have fun Come to the table Girls, it's all in the mirror Come to my body Si, di, 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 di. In cinta in montagna, si va in cinta in montagna, si va in cinta in montagna, trulalà. Guarda, un incendio, un incendio. Ciao Cri, ciao Maria. Che puzza di piedi, i miei no, perché sono fuori dalla finestra e non sono i miei. Per me è Paola che ha scorrezzato. Paola. La prima delle 20.000 gallerie. E' arrivata per me cosa non è valido. Vai, vai, vai. Ah, il video. Sciuraceo, sciurago. Sciuraceo, sciurago. Un'ora di viaggio, è un po' indietro, poi sono le 5 e vengono. Un'ora di viaggio, è un po' indietro, poi sono le 5 e vengono. Un'ora di viaggio, è un po' indietro, poi è un po' indietro, poi è un po' indietro. La figa si mangia, si beve, si lecca, la neve.